Buongiorno, allora, Borgo Sant'Almazzo, oggi l'unico giro che facciamo di solito su strada e abbiamo scelto il Fauniera, una bella salita rosa, la gente si chiama la monta Paglia, andiamo a salutare il vecchio Panta, ci va il monumento e sarà una lunghissima giornata perché non siamo pronti per questo. La pogniera, quelli che vanno di più patto e poi siamo io e il pillo che purtroppo il nostro passo sarà lentissimo. Grazie a tutti. E' iniziato il Fauniera, per noi è già duro, piccadò, e vabbè, arriveremo, con calma arriveremo. Allora, qui, dalla vetta, 10,9 metri e 6, con una pendenza media nel 10%. Un'altra gioca con i 100 kg miei. Inizia il vero Fauniera, 8 km alla vetta, ancora lunga lunga lunga. qui è sempre 12-14 km, sarà così fino in vetta. La nata che ha aspettato Pillo è la, gli altri due saranno già in cima. No, da dove arrivi? Non ti ho mica visto. Ah, due volte? Ero testa bassa, allora non ti ho visto passare. Siamo a 5 km e 4 alla vetta e qui c'è la pendenza del 13-14, è il tornante Charlie Gow. Sì, siamo a 2.000 metri adesso. Eh sì, mancano ancora 400 metri di slivello, 250. Sì. 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 Bene, là c'è il Pillo. State lì. State lì. Sono... avanti dura dai che abbiamo ancora 250 metri di dislivello dead, dead soldiers, dead soldiers, coming back for my war dead, dead soldiers, dead soldiers, coming back for my war die 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 in Sous-titrage Société Radio-Canada 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 I look through my window What do you think I see I look through my window What did I see I look through my window I look through my window I look through my window Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo morti Siamo in crisi, quando ero in fuga Perciò Nati dietro Poi Nati è scattato davvero scalatore Ha scattato davvero scalatore Ha fatto saltare tutti i fusili Dov'è il Petti? Petti com'è? Come è stata la giornata? Tosta eh? Impegnativa Bella, bel giro, merita E' uguale che c'era quella polenta E viva la polenta E viva i rispori Grazie Abbiamo portato la bici sotto il monumento di Pantani E questo per me è tanto Va bene Ciao a tutti e alla prossima Prossima sicuramente è mountain bike Il giro dell'anno in bici da corsa è stato fatto